Salve gente, sono Mandacube e vi do il benvenuto a un nuovo episodio di questo let's play. Come avevo annunciato questa puntata sarà un po' diversa dalle altre, più che altro perché voglio parlare di che cosa succederà a questo canale nel corso dell'estate. Chi di voi mi conosce nel senso, ha già frequentato questo canale o mi ha visto su forum eccetera, sa che quando arriva l'estate io ho dei problemi serissimi a registrare. Ciò ha comportato gli scorsi anni, questo è credo sia il terzo anno in cui gestisco questo canale, una volta arrivata l'estate ho interrotto completamente, ho smesso di fare video. Quando è arrivata la 1.6, circa due anni fa, c'è stato il problema che Groom, no Groom arriva dopo, che il nuovo launcher non era compatibile con la mia scheda video e dava quindi casini immensi. Ho aspettato che si risolvesse ma Groom ha passato tre mesi a dire che non si poteva risolvere. C'era anche l'estate, avevo problemi di connessione, avevo dei soliti problemi, ho interrotto quindi il primo let's play. Mi sono ritrovato quindi a settembre, di nuovo la connessione a posto, finalmente Groom ha capito cosa cavolo stava succedendo alle schede video perché non era un problema mio, tutte le schede video di quella marca davano problemi. Alla fine finalmente ho riuscito a risolvere, direi che scavo da questa parte. Scavo io che... Ah, come avevo detto nello scorso episodio, in questo... in questo dirò... innanzitutto dirò episodio circa 800 volte, dato che puntata non mi viene naturale e non so altri sinonimi. In questo episodio più che altro parlerò, non mi vedrete fare cose eccezionali, pensavo più che altro di continuare a scavare la mia miniera per procurarmi materiali in modo da poter costruire cose. Nel frattempo parlo. Quando finalmente è arrivata la... finalmente la intel ci ha cagato, Groom in circa due ore ha fatto un fix che faceva funzionare anche le schede video. Ho risolto ma mi sono ritrovato comunque che il let's play era interrotto da mesi ormai. C'erano stati una marea di update e quindi il mio mondo non sarebbe stato all'altezza. Questo lo voglio tenere, quindi anche se un update dovesse modificarlo mi sposterò io verso Chan, che è estremamente lontano in modo da avere le novità. E quindi avevo deciso semplicemente di lasciare da parte il vecchio let's play e cominciare a nuovo nuovo. Sono poi arrivato a Natale, non l'ultimo Natale ma addirittura quello scorso, in cui mi sono ritrovato più o meno lo stesso problema con le vacanze di Natale. In pratica gli esami alle porte, il fatto che torno nel mio paesino dove la connessione in pratica non c'è, non ci sono cavi, non ci sono dei cavi che la portano ma praticamente c'è tipo un postino che una volta alla settimana porta i dati di internet. Quindi non riusci, non avevo fisicamente il tempo di girare i video, di montarli eccetera. E allo stesso tempo anche una volta avessi avuto il video pronto, per caricarlo non ce l'avrei potuta fare, assolutamente. Vi lascio pensare che era uscito uno snapshot, non avevo ancora provato a caricare video, questo sto parlando della prima serie, è uscito uno snapshot, avevo fatto un video, non è che ci fossero molte novità, quindi il video era all'incirca sui 4 minuti, qualcosa del genere. YouTube mi dava due giorni per caricarlo, 48 ore, un video di 4 minuti. Voi capite che io un episodio dell'Explay circa è di, come si chiama, di 20 minuti, tento più o meno di rimanere sui, fra i 20 e i 30 minuti, la cosa non era assolutamente fattibile. Anche lì quindi mi sono interrotto, ho avuto poi alcuni problemi che adesso non sto qui neanche a raccontare, ho dovuto quindi interrompere a lungo termine la seconda serie. Arriviamo quindi a oggi, la terza serie dell'Explay. Sta per arrivare l'estate, stanno per arrivare i miei esami universitari, il tempo è poco, la connessione rischia di essere ancora meno, quindi ho deciso di attuare un piano, probabilmente assolutamente psicopatico. Questo episodio serve praticamente solo per chiedere la vostra opinione, se vi può anche piacere l'attuazione di questo piano. Ovvero, sto per registrare 13 episodi, ho calcolato che ci dovrebbero essere circa 13 settimane, dell'Explay, 13 episodi della serie sull'enciclopedia dei comandi, 13 episodi su Custom Map, e di farli adesso, di fila. Il problema di questa cosa cos'è? Li sto girando a maggio. Questo video probabilmente lo vedrete ai primi di giugno, ho calcolato che dovrebbe essere il primo episodio di giugno questo. La stessa cosa vale anche per l'ultimo episodio che vedrete a giugno, lo girerò a maggio, massimo, massimo inizio giugno, se proprio la mia tabella di marcia va, diavolo. L'episodio di luglio, idem, l'episodio di agosto anche. Per settembre pensavo la prima settimana di fare ancora così, e da quelle successive riprendere e girare io. Però questo vuol dire che per tre mesi voi vedrete episodi che sono effettualmente pre-registrati con un anticipo immenso. Questo vuol dire che mi sto informando bene tutte le novità possibili, anche da mostrarvi, ma una volta arrivato... Ah, come posso dire... Se tipo a luglio uscisse la nuova farm di villager eccezionale, mille volte migliore della mia, ovviamente prima di settembre non la vedreste mai nei video. Vi chiedo quindi cosa ne pensate di ciò? Se per voi potrebbe andare bene una cosa del genere, se questa gestione del canale vi va bene. Il vantaggio è che comunque non rimarreste senza video. Continuerei comunque a metterli, continuerebbero comunque a esserci... Anche perché nel momento in cui il video è caricato su YouTube, spostarlo da privato a pubblico, la connessione che ci vuole è veramente minima. Perfino con la connessione che mi ritrovo nel mio piccolo paesino è una cosa fattibile in meno di tre minuti. Quindi la cosa dovrebbe andare. Nel caso delle snapshot proverò, sperando che farò i salti mortali, perché comunque dovrei riuscire ad avere una connessione decente per brevi tempi anche durante quest'estate. Non garantisco nulla, però se la Mojang decidesse di fare il primo snapshot a luglio, probabilmente non riuscirò a fare un video, anche se vorrei farlo. Chiedo quindi le vostre opinioni in generale su questa mia scelta malata per la gestione del canale. Spero comunque vi possa piacere... Perché c'è acqua in questo punto? Scusate, ma sono... Ah, c'è sto buco qua. Scusate per la leggera introduzione, non mi aspettavo di trovare questo. Due secondi e riprendo col discorso decente. Allora, questo deve essere il tetto. Non mi ricordavo più che ci fosse dell'acqua qua, anche se ho scavato un tunnel l'altra volta. Fatemi continuare... Ah, è proprio perfetto per rompermi le scatole, è proprio allineato qua. Chiedo quindi la vostra opinione su questa mia scelta per la gestione del canale. Spero sia un compromesso che può andare bene a tutti. Non ci saranno le novità assolute, risponderò comunque ai commenti, perché comunque anche quella è una cosa che richiede ha una connessione anche non eccezionale, quindi posso farlo comunque. Perché continua ad esserci acqua in alcuni... Ah, ok. È una cosa che posso fare anche con la connessione scrausa che mi ritrovo. Continuerò quindi comunque a comunicare con voi, però mi ritrovo... che caricare un... fare un video, effettivamente fare un video e caricarlo diventa qualcosa che assolutamente non ho nel tempo, nelle possibilità per farlo. Ditemi voi se la cosa può funzionare, se può essere anche piacevole dal vostro punto di vista. Accetto anche i consigli, continuerò a documentarmi tutto l'estate in modo che anche una volta arrivato a settembre riprendo a fare i video e possa farvi vedere tutte le novità che purtroppo non sono riuscito neanche a parlare in questi... in questo episodio e durante questa lunga serie di episodi che girerò... sto pomeriggio! Pensavo la serie di fare almeno tra quattro episodi già anche questo pomeriggio stesso. Sarà uno stress disumano ma una volta finito sarò a posto. Ciò vuol dire anche che mi ritroverò comunque a un certo punto alla fine dei miei esami nessuna connessione ma nulla dice che ci scappi un progetto secondario. Francamente mi volevo dedicare a fare una mappa più... e sono circa tre anni che vorrei fare una mappa ma non trovo mai fisicamente il tempo o anche la voglia per imparare a fare quelle due o tre cose che mi mancano per farne una... anche veramente carina. Nulla mi impo... una volta che mi ritrovi senza esami e senza connessione comunque di imparare a fare decentemente una custom map e magari per settembre pubblicarla. Non garantisco nulla questo! È più facile che... non lo so... di regali un unicorno alla fine del video. Però sarebbe anche un'idea carina che penso potrebbe essere apprezzabile. Non è che ho superato il video? No, non era là. Penso che sarebbe anche un'idea carina e apprezzabile. Passando invece... un attimo che controllo il tempo di questo video. Penso non sia passati neanche dieci minuti dall'inizio ma... controlliamo comunque. Fra due secondi. Ok, sì. Sono undici minuti, sì. Ho controllato bene. Passiamo adesso alla gestione invece di questo mondo. Giusto per i progetti a lungo termine che potrei anche fare senza registrare. Sono quelle cose che non vi avrei mostrato comunque perché sono... abbastanza orribili da fare durante il video. Cioè... adesso sto scavando ma vi sto parlando di una cosa che ritengo importante. Però ci sono cose che sono lunghissime da fare e non posso mostrarvi. Probabilmente anche quelle finiranno nelle cose che farò senza registrare quest'estate quando non posso fisicamente fare i video. Una fra queste è che fra poco vi mostrerò è il perimetro. Ho intenzione di alla fine scavare completamente la zona in cui mi trovo. Fra poco vi faccio anche vedere che ho fatto una striscia di slab giusto per delimitarla. Sono arrivato in fondo? Ok, perfetto. Andiamo su. Ho fatto anche una striscia di slab che fra poco vi farò vedere. L'ho fatta 200x200 che è estremamente più grande di quanto in realtà dovrebbe essere. in teoria i mob possono spawnare solo in un cerchio no, i mob al di fuori di un cerchio 128 di raggio 128 despawnano all'istante. Ho deciso di farlo 200x200 in modo da coprire tutto e avere anche il fatto che comunque un cerchio raggio 128x128 no, raggio 128x128 un cerchio di raggio 128 vorrebbe dire che io devo stare in un punto. Invece facendolo 200x200 il lavoro diventa molto salve zombie il lavoro diventa molto maggiore da fare. Non è che gli zombie che stanno facendo questi allegri zombie qua? Ah ok, però non possono entrare il villager se ne frega continua a lavorare. il lavoro diventa comunque molto più grande da fare invece di un cerchio faccio un quadrato e invece di farlo 128 lo faccio 200. No, è vero essendo un quadrato è 400x400 l'ho fatto lungo 400 sono completamente malato di mente sotto questo punto di vista. fatemi solo un attimo sistemare la roba che ho scavato questo devo decisamente con i villager procurarmi un piccone con fortuna ho leggeri problemi col carbone non so se si nota cosa stavo facendo? Amnesia ho deciso quindi di no, scusate ho perso un attimo il filo del discorso e sono abbastanza sicuro di non ritrovarlo finché non ho piazzato tutta sta roba vero Brian? levati dalle scatole ah giusto stavo parlando di quanto cavolo il perimetro è grosso perché l'ho fatto 20 volte più grosso del normale in modo da invece se io facessi un cerchio di raggio 128 sarei bloccato nel centro non mi dovrei muovere da lì per avere la massima efficienza facendoli invece più grande posso quindi spostarmi a piacimento il il perimetro va da questa parte ci dovrebbe si dovrebbe già vedere bene la striscia di slava che ho fatto sembra molto vicino alla base ma questo perché come centro ho scelto la spirale la scala spirale che va giù dalla miniera ho controllato un attimo ho esplorato sto posto da cima a fondo più o meno tutte le grotte credo nemmeno anch'ino solo un paio ma non dovrebbe essere un lavoro lungo la in fondo ho quindi segnato tutti gli spawner c'è una quantità di spawner di zombie che è assolutamente abominevole in questo mondo non avevo c'è quando ho iniziato ho trovato questo e poco dopo esplorandone ho trovato uno ce ne sono altri tipo 6 scavando qua sotto ho fatto poi una fatica boia a trovarne uno di ragni che dovrebbe essere più o meno da quella parte non è in superficie non è assolutamente non ho avuto così fortuna da trovarne tipo 20 in superficie c'è questo ecco qua l'ho segnato con una zucca qua sotto scavando in profondità non so neanche bene quanto non mi ricordo più ce n'è uno di ragni la cosa più bella è uno spawner di scheletri che probabilmente diventerà una farm voglio fare la farm di mob cattivi anche generale probabilmente la vedrete anche quest'estate è uno dei 13 video che sto programmando la cosa bella è che comunque scusate colpo di lag sono entrato in una grotta che c'è più o meno là non so se vedete quell'arbusto comunque vicino allo spawner l'altro spawner di zombie in superficie c'è una fila di grotte giro per me sì credo di averla esplorata per mesi quella cavolo di grotta è immenso c'è anche la miniera abbandonata ho illuminato tutto tutto giro alla fine dopo non lo so neanche non mi ricordo neanche quando ho cominciato ad esplorare quella caverna c'è l'ultimo infatto lo illumino e trovo uno spawner di scheletri oh bene ci farò la farm però probabilmente lontanissimo dalla base segno le coordinate torno in superficie è qua io ho girato un bese in una grotta che è là e alla fine sono arrivato qua non ho la minima di come sia successo tornando ai progetti a lungo termine la farm di scheletri non è a lungo termine assolutamente cosa voglio fare in questo mondo ci voglio mettere una farm di mob buoni quando uno dice farm di mob buoni normalmente nella comunità italiana intende tipo questa la farm di polli che probabilmente è piena la farm di conigli questi sono già cresciuti no sono no sono già cresciuti direi di poterli ammazzare adesso la farm di conigli di mucche cioè che non sono ovvero allevamenti di quegli animali tu ne hai già un po' li sfrutti vieni da me esperienza 8 zampe di coniglio inclusa quella che ho messo qua ovvero farm in cui tu hai già la cosa puoi pieno oh si è allineato perfettamente come volevo non potrei desiderare di meglio no sto ho fatto una cagata ho fatto una cagata scusate ma ho fatto una cagata ho rovinato quello che stavo facendo perfetto non c'è un fico secco ok posso andare la farm di poli di mucche di pecore ovvero tu hai già un allevamento di quegli animali dopodiché voi perché mi pare così affermati e in pratica li allevi li dai a mangiare fai in modo che si accoppino fai un altro numero e li ammazzi quello che intendo con mob di farm con farm di mob buoni invece è assolutamente diverso voglio avete immagino tutti avete presente la farm di mob cattivi un cubo con pistoni acqua un meccanismo che preferite che fa spawnare i mostri dentro cadono muoiono all'istante e voi raccogliete i drop si può fare anche con i mob buoni c'è il problema ci sono due problemi grandi uno è il fatto che ci sono nei chunk di spawn andrò un giorno là arerò tutto distruggerò tutto e ammazzerò ogni forma di vita secondo il mob cup se voi avete anche solo 5 no 8 mob buoni non possono più spawnarne di nuovi questo vuol dire che questa farm sparerà questa pure e tutti voi verrete rinominati in modo da non contare più nel mob cup probabilmente si rinominerò anche il cavallo per farvi un esempio aerobrine è un pollo ma non viene contato nel mob cup dei mob buoni perché ha un nome perché mi lascia sempre un uovo nel letto me lo lascia nel letto sempre devo ancora capire perché ovviamente però esattamente come per i mob cattivi bisogna illuminare tutto bisogna eliminare ogni punto buio perché i mob cattivi spawnano il buio per i mob buoni è la stessa cosa per l'erba devo eliminare ogni blocco d'erba arerò tutto quanto distruggerò tutto quanto vi ripeto è una cosa che non filmerò perché è un lavoro immenso date anche solo un'occhiata a quanta erba la mia farm produrrà probabilmente oltre a polli conigli mucche pecore e qual è l'altro animale maiali anche cavalli perché siamo in una pianura i lupi perché la farò a cavallo anche con queste forese con una di queste due foreste che vedete qua quindi dovrebbe riuscire a spawnarmi tutto quanto qual è quindi il problema ah giusto dovrò distruggere tutta quest'erba e ci sono quattro opzioni che lascio scegliere a voi qual è la vostra preferita la prima bioma invernale sostituire tutta l'erba con neve ricoprirla con strati di neve in modo che nessun mob possa spawnarci sopra ovviamente sostituirò quegli alberi con dei pini magari decorerò anche un pochettino pro di questa idea il lavoro non è neanche così tanto maggiore di quello che farai normalmente la neve è comunque facile da produrre la cosa sarebbe molto carina da vedere a Natale condro farebbe abbastanza strano vederla ad agosto negli anni prossimi a voi comunque la scelta seconda opzione funghi troverò un bioma dei funghi so già più o meno dovrebbe essere in quella direzione circa un migliaio di blocchi lo posso raggiungere facilmente sostituire tutta l'erba che vediamo con micelio quell'alberi sostituirli con fughi giganti e comunque dare questa bella impressione estetica modificarlo completamente ripeto costruirò questa fattoria ho tutto il tempo per farlo ma quando verrà il momento la distruggerò completamente anche questa perché non mi servirà più quarta opzione cartoon e questa probabilmente è una delle più carine ma credo che mi suiciderò se devo fare questa se decidete questa sostituire tutta la terra con argilla colorata marrone in modo che sostituisca la terra e sostituire l'erba ovvero che in realtà intendo solo questo straterello superiore con tappeti verni l'idea dovrebbe venire molto carino tipo anche quella montagna sostituirla con no vabbè stomp no vabbè se è tutta argilla deve essere argilla sostituirla con argilla di un altro colore anche gli alberi sostituirli diventerebbe abbastanza carino da vedere però vorrebbe dire che dovrei depredare la mesa il lavoro in pratica sarebbe qualcosa di abominevole l'idea è carina le opzioni quindi per adesso sono neve farlo diventare un bioma invernale funghi farlo diventare un'isola delle moche fungo vi ripeto sto dicendo far diventare il bioma rimarranno sempre lo stesso foresta e no foresta e prateria anche perché spawnano solo lì i mob che voglio cambierà solo l'aspetto che darò questo post e cartoon la quarta opzione che vi avevo detto prima è a vostra scelta decidete voi cosa volete se vi viene una quarta idea che è migliore di quelle che io ho esposto il lavoro sarà immenso comunque perché devo distruggere tutta l'erba che vedete qua voi da questo punto di vista anzi prendo il cavallo così vi faccio vedere perché non rende bene l'idea perché andando in questa direzione sembra che è finito subito e se guardate in questa direzione voi vedete il deserto quindi erba ce n'è poco andiamo in questa così capite bene quanta erba ho da distruggere forza cavallo devo dargli un nome anche soprattutto perché uno devo dargli un nome così non conta come mob buono devo anche dargli un nome così perché sarebbe carino nel mondo vi ripeto stiamo cercando una fila di slav in mezzo al nulla tutti questi animali verranno raccolti prima in farm allevamento farm nel senso allevamento e poi verranno tutti maciullati per fare spazio alle farm alla farm farm ok ecco qua la fila di slav tutta questa pianura tutta mi dispiace solo che l'isola volante sia tipo 20 metri fuori mi sarebbe piaciuto averlo qua non riesco a passare è molto comoda sta fila di slav l'ho fatta anche nei chunk di spawn più che altro perché mi consente di attraversare l'acqua non mi consente di attraversare le colline vai 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 cavallo ce lo puoi fare vi faccio vedere solo quanto è lungo sia come angoli eccetera ho una buona notizia per quanto riguarda i chunk di spawn allora avrei preferito vai cavallo vai cavallo vai cavallo si ok non è esploso avrei preferito se fossero stati i bioma quadrato no chunk di spawn quadrati grandi ovvero quelli 17x17 spawn mi avrebbe dato più spazio per fare farm ancora più grandi purtroppo non è così c'è anche l'opzione peggiore che è ovvero i chunk di spawn quadrato 16x17 oh non è esploso avrei giurato sarebbe esploso c'è anche l'opzione più scarsa che comunque è 16x16 chunk e è la più piccola possibile mi è andata abbastanza bene perché ho un rettangolo che è 16x17 un lato è quello più corto che era è molto raro che succeda 17x17 conosco solo una persona che scegliendo un mondo a random gli è venuto il chunk di spawn 17x17 lo saluto con tanto odio probabilmente guarderà questo video anche se gli ho detto mille volte di non farlo è una testa di cavolo i chunk di spawn 17x17 che sono rarissimi c'è una possibilità su 256 che capiti un mondo del genere specialmente se pensate che lo scegliete a random quando scegliete a random i seed o comunque se scegliete il mondo non apposta per quello guardate quanto cavolo lungo sto a fare tutto sto lavoro che devo fare il rettangolo 17x16 è un pochettino più probabile è comunque abbastanza raro mi accontento perché non posso fare altrimenti non c'è modo di allargare i chunk di spawn sono qualcosa che sono intrinseco nel mondo e qua abbiamo farme di ragni quindi dovrei aver fatto più o meno mezzo giro immaginatevi più o meno com'è il resto boh detto questo ditemi cosa ne pensate del progetto futuro per il canale cosa ne pensate del progetto futuro per questo mondo cosa ne pensate anche di non lo so vorrei chiedere quella custom map non vorrei tanto chiedere perché mi viene il dubbio poi di non proseguirla effettivamente trovare qualche problema che trovo insormontabile detto tutto questo spero che concluderei qui il video e soprattutto per chiedervi informazioni chiedo scusa a chi voleva vedere delle farm ma dovevo dire queste cose spero che comunque vi sia piaciuto per favore commentate il senso dell'episodio questo è che voglio che commentate ma tanto se volete mettete un mi piace e iscrivetevi al canale anche se questo video non è che meriterebbe proprio cose del genere detto questo grazie mille e ci vediamo al prossimo episodio ciao a tutti